Mentre l'anticiclone atlantico si espande verso la Scandinavia, sulle Alpi permane dell'aria fresca in quota che mantiene condizioni di instabilità atmosferica. Per sabato prevediamo cielo in genere poco nuvoloso su pianura e costa e con temperature in aumento. In montagna variabile con tempo migliore al mattino e maggiore nuvolosità a partire dal pomeriggio quando sarà possibile qualche locale rovescio o temporale che poi potrebbe interessare anche qualche zona di pianura o del carso. Temperature minime in pianura tra 10 e 13 sulla costa tra 13 e 16. Temperature massime fino a 25 in pianura fino a 23 sulla costa dove soffierà in genere brezza durante il giorno. Per domenica prevediamo ulteriore miglioramento del tempo. Su pianura e costa cielo in genere è sereno o poco nuvoloso. Sui monti è sereno al mattino eccetto il televisiano dove abbiamo qualche nube bassa. Poi nel pomeriggio di nuovo variabilità con qualche isolato rovescio o temporale. Temperature massime in pianura fino a 26-27 grade fino a 24-25 sulla costa dove soffierà bora in genere moderata. Lunedì inizialmente cielo velato poi peggioramento in serata e martedì altre piogge e atti temporali. Dall'Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Livio Stefanotto